Rosario Romano, Presidente, Ani e Sicurezza. Siamo al terzo giorno di fiera, quindi il giorno conclusivo, con una grande soddisfazione corale sia da parte degli espositori che dei visitatori e da parte anche delle associazioni, perché Sicurezza 2014 è anche la fiera delle associazioni. È corretto, diciamo che abbiamo sperimentato ancora una volta una collaborazione attiva con Fiera Milano, collaborazione che ha visto coinvolte tutte le associazioni di categoria e abbiamo apportato la nostra esperienza, la nostra competenza ad una fiera che si è dimostrata molto disponibile, molto aperta e che crede in una fiera che quest'anno ha dato dei risultati decisamente positivi e per qualche aspetto anche non attesi. Cresciamo con dei numeri pazzeschi rispetto a un 2012 che ha visto già dei numeri positivi rispetto al 2010. Benissimo, quindi anche internazionalizzazione sempre di più, del resto il Made in Italy è ancora un punto molto forte per le nostre aziende. Il Made in Italy, soprattutto nel Nord Africa, ha senz'altro un'appille importante e per questo che noi dobbiamo puntare e sviluppare il nostro business lì dove siamo ben visti. Il Nord Africa, il Maghreb e il Medio Oriente vedono nelle tecnologie italiane tecnologie di eccellenze. In realtà le tecnologie della sicurezza italiane sono eccellenza pura. Abbiamo negli ultimi periodi visto una crescita significativa delle sport e quindi se Fiera Milano con Fiera Sicurezza continua a promuovere questa fiera all'estero e continua a promuovere le nostre tecnologie all'estero non possiamo che vedere aumentare questi numeri già significativamente in crescita.